Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la notizia. È stato firmato l'accordo preliminare relativo all'intesa raggiunta tra Governo, Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in materia di autonomia. A confermarlo proprio il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, uscendo da Palazzo Chigi. È una giornata storica, non perché voglia essere autocelebrativa, ma perché è la prima volta che al settantesimo anno dalla Costituzione e finalmente qualcuno decide di dare spazio al regionalismo e all'autonomia. Si tratta di forme e condizioni particolari di autonomia che le Regioni assumono, come prevede l'articolo 116 della Costituzione all'interno di due elenchi, elementi competenze concorrenti tra Stato e Regione, dal commercio con l'estero alla ricerca, l'energia e le tre competenze esclusive dello Stato, giustizia di pace, istruzione e tutela all'ambiente. In sostanza le tre Regioni hanno chiesto le competenze, lo Stato ne ha misurato il costo e quindi calibrato le risorse in base ai nuovi compiti accordati dall'amministrazione regionale. Torniamo alla cronaca. I carabinieri di Rovigo hanno denunciato quattro persone, di cui una minorenne, residenti nei campi Rom di San Bellino, in provincia di Rovigo e a Ferrara, per sequestro di persona e rapina. Tutto inizio il 10 giugno del 2017, quando dei banditi incappucciati hanno fatto irruzione in un'abitazione di campagna nella provincia di Rovigo, all'Indinara. I due coniugi schiaffeggiati di 80 e 77 anni e poi minacciati con un fucile. I banditi, dopo aver danneggiato la casa in cerca di una cassaforte, che però non c'era, se ne sono andati con un bottino di 1200 euro, nonché un orologio. I due anziani terrorizzati poi avevano chiamato il 112 e i carabinieri si sono messi alla ricerca dei fuggitivi. E sempre i carabinieri di Verona hanno arrestato oggi Bezzir Aydinai, fratello di Ajim Aydinai, l'uomo reo confesso dell'omicidio della compagna Kadia Benkeic, cittadina marocchina di 46 anni, i cui resti furono trovati a pezzi il 30 dicembre scorso a Valeggio sul Mincio. Bezzir è accusato di aver aiutato il fratello a sezionare il corpo della fidanzata. La città delle idee, un nuovo bando pubblico per l'erogazione di contributi ad associazioni senza scopo di lucro, destinate ad eventi ed iniziative di rigenerazione urbana e sociale dei quartieri di Padova. È stata presentata la stampa Palazzo Moroni questa mattina, un esempio di città partecipata, come ha voluto descrivere il sindaco Sergio Giordani. Le periferie hanno già aspetti culturali e ludici gestiti. Questo è un ulteriore incremento perché vogliamo che le periferie, le cosiddette periferie, perché per me non esistono le periferie Padova e anche le periferie, è tutta Padova, vengono stimolate a investire. Ci sono molte associazioni che si stanno dando da fare, sempre di più i cittadini vengono a noi proponendo idee, proponendo logiche. Vogliamo investire su questo, vogliamo investire sui cittadini, sui giovani. È una cosa molto importante che vuol dire sicurezza alla fine. Bisogna riappropriarsi della città. Tutti assieme non saremo mai capaci come amministrazione comunale, per quanti poliziotti, per quanti polizia urbana, per quanti telecamere, non risolveremo mai problemi al solito. Abbiamo bisogno dei cittadini e abbiamo bisogno di collaborare. Collaborare vuol dire risolvere i problemi e vuol dire che la città è nostra, non di qualche altro. Per cui bisogna collaborare, noi investiamo, scrediamo nei cittadini. Abbiamo un fenomeno anche strano. Vengono più a protestare, vengono a protestare e anche a proporre soluzioni, che è una cosa diversa. Assieme si riesce a fare la cosa, sono convinto. I rifiuti della campagna al Veneto con l'intermediazione di una dama di mezzo è online alla quarta puntata della videoinchiesta di fanpage.it. Dopo l'anticipazione della scorsa settimana, la dama di mezzo si chiama Grazia Canuto, moglie di un ufficiale dell'esercito di Padova, che negli incontri con l'ex boss Nunzio Perrella ed un imprenditore di Marghera, di sua conoscenza, dice più volte di essere in grado di ripulire il denaro sporco del clan con un progetto da 21 milioni di euro per la realizzazione di un terminal per lo stoccaggio di gas. In un incontro Perrella consegna addirittura 2,8 milioni da riciclare, ma nel trolley non c'è denaro, ma piuttosto dei paccheri. Dicevamo appunto che da quello che si capisce dall'inchiesta di fanpage.it per rafforzare la sua immagine, in un caso introduce l'ex boss ad un incontro pubblico con, tra gli altri, il sindaco di Venezia e il ministro Galletti, al quale spiega il progetto dal terminal, Galletti ascolta poche parole e poi si congeda quasi subito. Oltre 6 mila quintali di sale, 106 mezzi ed un centinaio di uomini, sono questi i numeri del piano di neve, antineve predisposto e coordinato dalla provincia di Padova per mettere in sicurezza tutti i 1.100 km di strade provinciali durante la nevicata prevista proprio per domani. Pronto anche il piano di emergenza del comune di Padova con ben 100 punti di intervento. È stata presentata la nuova edizione di BAMF, il festival di montagna internazionale che in Veneto toccherà ben quattro città, tra Padova, Verona, Vicenza e Treviso a partire dal 16 marzo prossimo. Una manifestazione itinerante che dal Canada tocca svariati stati dell'America, dell'Asia dedicato agli appassionati di montagna e di outdoor, un pubblico sempre più in crescita come ci ha raccontato Alessandra Raggio. Vediamo. Un festival che approda a Padova, un festival inusuale, nel senso che non è il classico festival di film da montagna. È una rassegna, in effetti, sono dieci corto e mediometraggi che sono stati scelti da un festival che è quello di BAMF appunto, che si svolge ogni anno in autunno in Canada. Questi filmati sono stati scelti tra i film finalisti, quindi è una super selezione di quello che è successo in Canada. Un festival in Italia che ha contato e conta 14.000 presenze ad ogni edizione. Assolutamente sì, dal 2013 che siamo partiti con 5 serate, quest'anno saranno 29 in tutta Italia per essere a Padova il 21 di marzo e sono ormai 13-14.000 persone che si raccolgono e si ritrovano in sala per godere di queste serate. La Giunta Comunale, ieri, nell'ultima seduta, ha approvato il progetto esecutivo per la restiturazione dell'edificio di Via Vlacovic ai Civici 2 e 4, un'ex scuola di proprietà comunale. Ha dato in concessione per 30 anni all'associazione Casa Priscilla Onlus, che la destinerà alle proprie attività di volontariato ed accoglienza dei minori in condizioni di disagio sociale. Presentato presso il Museo Civico degli Eremitani, il restauro del dipinto di Francesco Rizzo da Santa Croce, Madonna con il bambino tra i santi Simeone e Caterina. Il dipinto è tornato allo splendore di un tempo grazie al contributo del Lions Club Abano Terme, Gaspare Stampa. Si può ammirare di nuovo nella Pinacoteca del Museo d'Arte Mediovale e Moderna. La tavola presentava alcune lacune e numerosi ritocchi al di sotto della vernice ingiallita e ossidata. Grazie all'intervento del Lions Club Gaspare Stampa, Abano Terme, che ha finanziato il lavoro ed è un bel segno perché mostra una continuità di interesse della società civile per la conservazione del nostro patrimonio storico e artistico. I consigli generali di Coffindustria Padova e Unindustria Treviso hanno approvato il protocollo preliminare d'intesa per la costituzione del nuovo e unico prosoggetto associativo al piano industriale che accompagna l'integrazione fra le due associazioni che ne delineano la struttura e le linee guida. Con 3.400 imprese, 160.000 addetti, quella di Padova e Treviso sarà la seconda territoriale del sistema Confindustria in Italia. Il via libera è arrivato nella seduta congiunta dei due consigli svoltosi nell'Aula Magna del Palazzo del Bo a Padova. La proposta di denominazione della nuova associazione che ora sarà sottoposta all'approvazione degli industriali associati è Asindustria Veneta. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione e come sempre ci risentiamo alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito e una buona visione dei nostri programmi. Grazie per aver guardato il video.